Allora da Soleto in diretta qui, calcio di rigore in favore del Soleto per il fallo subito dal numero 11 ad opera di Simeone. Parte dagli 11 metri il Soleto, vediamo, confidiamo nella parata del portiere Pasquale, vediamo un po' se Delos riesce un po'. Peccato, palla in gol, Soleto in vantaggio, rigore piuttosto lento, centrale, però comunque speccato perché pochi secondi prima non ha concesso un fallo sul limite dell'area perché il portiere è uscito con le mani fuori, però speriamo in un pareggio.